Per cui il caso Arnone, che è un non-caso, lo diventa perché la magistratura agisce in maniera arbitraria e non sulla base di dati oggettivi contro una persona perché esprime pensieri o posizioni che non le sono graditi. Ora la magistratura è un ordine e non è un potere, ma è un potere superiore a qualunque altro potere perché una volta eliminata l'immunità parlamentare con sombo gaudio dei cittadini, qualunque azione politica, vedi il caso dell'oggi Amato Salvini che è stato indagato proprio da un magistrato non di Milano ma di Agrigento e poi si è dovuto valutare che quella era un'indagine che non si poteva fare, che non si doveva fare. Però perché è stata fatta? Per arbitrio? Per una posizione politica di un magistrato a cui non piace la posizione politica di un politico? Per farsi pubblicità? Per cui il patronaggio è diventato famoso, tristemente famoso, qualcuno gli ha anche dato ragione, la procura competente di Catania gli ha dato torto e ha chiesto l'archiviazione per Salvini. Contemporaneamente il medesimo si preoccupava, con tanti problemi che ci saranno a Agrigento e rispetto alla criminalità vera, di un avvocato, su avere posizioni scomode, che è scomodo, che non si lascia intimidire e che proprio in questo rappresenta per la magistratura un momento di difficoltà. Io a questo punto non posso difendere la magistratura perché non tocca a me, ma non mi sentirei tranquillo avendo Ornone come nemico, perché la foga e la potenza è proprio di quello che non accetta di essere umiliato e mortificato dall'azione giudiziaria e che di per sé ti mette in una condizione di difficoltà. Ma non parliamo di un arresto che lui è pure toccato, cioè tu puoi accettare un arresto se sei consapevole di un reato, ma che un arresto sia una forma di intimidazione per farti tacere è quello che potevano sperare senza immaginare che non avrei reagito con una voce ancora più potente e trovando una convergenza con me che partivo 25 anni fa, forse di più ancora nel 92, la posizione è molto diversa dalle sue. Io ho sempre attaccato una magistratura a partire da Di Pietro che va fuori del suo limite, non perché volessi difendere i politici, ma perché di fatto l'azione di Di Pietro è stata così enorme che ha cancellato i partiti, quindi ha distrutto delle idee, è stata un'azione profondamente anticulturale, poi avrai arrestato qualcuno, e forse era giusto arrestarlo, ma cancellare tutti i partiti è un crimine contro la cultura, un crimine contro l'umanità. L'Italia oggi non ha più nessuna identità ideologica perché ognuno è stato impaurito attraverso quell'azione, che poi adesso uno che invece ha ripreso una proiezione politica come Salvini, tra l'altro riuscendo a convertire anche una parte di Meridione, nella sua azione che è assolutamente coerente, perché più chiara la questione non poteva essere, venga indagato, è cosa che non può essere chiamata altro che un'azione politica e che non rientra nell'obbligatorietà dell'azione penale, ma in un'interferenza di un potere su un altro. Allora in mezzo, oltre a quello che ha dovuto poi vedere quando Catania ha stabilito di archiviare le vicende relative a Salvini, avere anche Arnone e guardare queste carte, vedere che non c'è niente e che Arnone diventa vittima per antipatia, per un atteggiamento che non viene ritenuto pronto, che viene indagato per cose che non ha fatto, che non poteva fare, amareggia molto e fa capire che la magistratura usa il proprio potere, non per difendere i cittadini, ma talvolta per umiliarli, per cancellarli, per mortificarli, ed è una cosa interessante. E l'hanno fatto anche in Sicilia, soprattutto col paradosso degli scioglimenti di comuni come Racalmuto e Salemi. Oggi Racalmuto può rialzare la testa, Salemi è stata umiliata costringendo me ad andarmene, ma non c'è un solo indagato per mafia nella città di Salemi, che non si può sentire in televisione una città ad alta densità mafiosa. Sono dei dementi che però usano armi che gli forniscono i magistrati, i carabinieri e quelli che fanno indagini solo per mostrare i loro muscoli e la loro capacità di interdire la criminalità, senza farlo, perché è facile impedire ai mafiosi di agire quando sono morti. I mafiosi a Salemi sono tutti al cimitero, come azione di interdizione è importante, è un po' tardiva direi, potevano sciogliere il comune nell'82, nel 92, non nel 2012, perché quello è un atto puramente dimostrativo contro la verità. Ecco allora che io lo dico per i fatti miei. Adesso mi trovo a dirlo anche a non, partiamo dalla posizione molto diversa. Ma l'ha sciolto la Cannizio, il tuo comune? L'ha sciolto la... no quella lì, l'abbiamo detto prima, la Cancellieri. Ah, la Cancellieri, no, come prefetto? Il prefetto c'era la Lomagno. Comunque, insomma, sono tutti i dettagli, ma fa molto piacere che siamo sempre d'accordo con Arnone, ma siamo arrivati facendo esperienze molto diverse. Io dico, quando venivo in Sicilia, tanti anni fa, lo vedevo come l'emblema del portavoce della magistratura, lo stronzo di Arnone che è sempre d'accordo con i magistrati. Che poi poteva anche essere una cosa che lui vedeva in coerenza e nella logica delle cose. Quando poi si è accorto che la macchina è talmente perversa che agisce con gli strumenti della mafia, cioè agisce nella illegalità. La magistratura dell'illegalità costituisce una realtà gravissima pari a quella della mafia. Più grave. Tu dici più grave, fortuna l'hai detto tu. È più grave.